Scateniamoci con le donazioni, è un'iniziativa promossa dal Comune di Napoli nella quale crediamo tanto ed è un'iniziativa monitorata durante tutto il suo svolgimento e vede grandi protagonisti le giocattolerie e le librerie della nostra città che diventano dei veri e propri punti di riferimento della solidarietà. Possiamo comprare un giocattolo per noi stessi, per una bambina e un bambino della nostra famiglia ma anche e soprattutto per una bambina e un bambino che non conosciamo, lasciandoli in sospeso. Innanzitutto complimenti a questi donatori, questi giocattoli al cuore grande, dal cuore buono, dal cuore generoso come il cuore dei napoletani. E' riuscita a fare per i bambini perché un'infanzia senza giocattoli è un'infanzia triste, è un Natale senza giocattoli è un Natale ancora più triste. Quindi complimenti all'assessorato, alle politiche giovanili, complimenti all'assessore Clementi e al Comune di Napoli per questa lodevole e bellissima iniziativa alla quale ho partecipato con grande partecipazione e un grande affetto. Una bellissima iniziativa questa, il giocattolo sospeso, che regalerà tantissimi sorrisi a molti bambini e ne sono felicissima. Parte la quarta edizione del giocattolo sospeso, un'iniziativa solidale che si ispira alla tradizione del caffè sospeso che invita ad acquistare un giocattolo nei negozi che aderiscono per regalarlo a bambini che altrimenti non potrebbero averlo. Mi medesimo in un bambino che magari tutto l'anno sa che non può ricevere niente, invece c'è una sorpresa anche per lui a Natale. E questo nobile da chi lo fa. No, io un anno ho regalato uno strumento musicale, una chitarra, perché ho pensato che un bambino, sai, che ha questo tipo di passione. E l'anno scorso aveva fatto una bella cosa, anzi invito pure a tutti coloro che vogliono fare questo regalo. Ho messo in sospeso un giocattolo per il bambino autistico, che sono dei giocattoli speciali per i bambini speciali. E soprattutto la grande forza di questa iniziativa è che nessuno ne ha mai abusato, nessuno ne ha mai approfittato. Questi doni sono sempre arrivati nelle mani giuste, grazie alla catena della solidarietà e grazie anche al protagonismo di associazioni, comitati, educative e territoriali, punti di riferimento per le bambine e bambini in tutti i quartieri di Napoli. E rispetto agli 8-900 giocattoli sospesi degli scorsi anni, quest'anno l'obiettivo è superare quota mille. Visto che quando si parla di quote, quote mille, si parla sempre di altre quote, la Fornero, il Pansione, e invece stavolta prendiamo una quota che è veramente, è una grande quota, è una quota altissima. Il Natale senza giocattoli è un Natale che per un bambino non è Natale. Io conservo ancora dei giocattoli di tanti Natali fa, in particolare un mappamondo. Oggi sembrerebbe anagonistica, ma chi se è un mappamondo, perché oggi pensano solo il cellulare, si pensa solamente all'iPad, si pensa un computer. Invece per me quel mappamondo ha rappresentato molto e mi ha permesso forse di fare quello che ho fatto, di girare molto il mondo, l'Italia, l'Europa, grazie al lavoro che poi ho voluto fare.